Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, un altro incidente lungo l'autosole oggi alle 15.30 dopo quelli che, lo ricorderete, si erano verificati a cavallo del weekend pasquale. Lo scontro si è verificato in direzione nord al chilometro 347, coinvolte un'auto e un furgone, quattro le persone rimaste ferite, una donna di 43 anni, un uomo di 72 e due minori. Sul posto un'ambulanza Avis di Foiano della Chiana e due ambulanze della Misericordia di Arezzo, i vigili del fuoco e la polizia stradale. I feriti sono stati trasportati tutti in codice giallo al pronto soccorso della Gruccia. Ancora aziende ora fe nel mirino dei ladri dopo il colpo di un mese fa a Ponticino. Nel corso della notte appena trascorsa una banda ha preso di mira il complesso artigianale di Molinbianco. Sono andati da questa porta qui, hanno rotto i muri interni di questi altri laboratori. Il mio in particolare hanno tagliato la cassaforte, hanno rovistato tutto, hanno svuotato tutto. Scia di furti nella notte in zona Molinbianco ad Arezzo dove una banda di malviventi ha preso di mira alcune aziende orafe. I ladri sarebbero entrati in azione attorno alle due. Forzando una porta si sono introdotti in una prima azienda vuota perché finita all'asta, poi con una serie di fori nei muri sono riusciti ad entrare anche nelle ditte adiacenti, tra quelle attive che sono state colpite. Erano entrati da qui, hanno bucato in fondo al locale mio dal bagno, poi hanno bucato a questa signora qui al primo piano e dopo hanno sfondato da parte di dietro per riuscire. In una avrebbero portato via tutti i preziosi trovati sui banconi, mentre in un'altra con una mola sono riusciti ad aprire la cassaforte e portare via il contenuto. A vuoto invece sarebbe andato il tentativo in una terza azienda. Ci ha provato, ha armadiette blindate e l'hanno aperte, cassaforte no perché cercano di tagliarla con la mola, non ci sono riusciti. A metterli in fuga infine sarebbe stato il sistema di sorveglianza di un'azienda, ancora da quantificare il bottino con il quale i ladri si sono dati alla fuga. Voi come vi vedete? Sugli episodi sta indagando la polizia di Stato, sul posto anche la scientifica per tutti i rilievi del caso. Fondamentali potrebbero essere adesso le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona per risalire ai componenti della banda. I carabinieri della stazione di Castiglione Fiorentino hanno individuato e denunciato l'autore del furto di un telefono cellulare che era nuovo in esposizione. Un colpo avvenuto nel luglio del 2022. L'uomo nel frattempo aveva anche utilizzato una scheda telefonica proprio intestata a lui. I carabinieri sono così riusciti ad avere le complete generalità e appunto a denunciarlo. Oggi festa della polizia ad Arezzo ad ospitare le celebrazioni. Il teatro Petrarca nel bilancio di questo ultimo anno di attività, l'arresto dei componenti della baby gang, la lotta alla droga e così appunto la polizia di Stato festeggia il suo 171esimo anniversario. L'abbiamo voluto festeggiare insieme alla gente, insieme a tutti voi, insieme ai cittadini perché quello che vogliamo affermare è esserci sempre, che è il nostro hashtag, il nostro motto, cioè quello di innalzare il livello di sicurezza in una città così bella come quella di Arezzo. La Polizia di Stato ha deciso così di celebrare ad Arezzo il 171esimo anniversario della fondazione nel cuore della città al Teatro Petrarca, alla presenza delle autorità e dei cittadini. È stato dunque tempo di celebrazioni, tornate quest'anno in presenza, ma anche bilanci delle operazioni, soprattutto contro droga, furti e microcriminalità. Nel corso del 2022 sono state 184 le persone arrestate, 911 invece quelle denunciate. Emerge che il trend è sicuramente in netto miglioramento, anche se purtroppo, devo dire, la percezione di insicurezza rimane. Ecco il motivo per cui non dobbiamo fermarci ed andare sempre avanti, l'avete visto anche con i premiati, quanti premi sono stati dati per la cattura di spacciatori o comunque di persone dedicate a reati di strada, che sono poi quelli più odiosi per il cittadino e che fanno percepire una situazione di insicurezza che in realtà non c'è. Ma l'insicurezza, reati predatori e baby gang sono sicuramente i fattori che preoccupano di più? Sì, sicuramente sono quelli che preoccupano di più, però posso dire che la baby gang è sgominata e al momento non abbiamo degli elementi per poter dire che è radicata nella città, mentre invece siamo più preoccupati per i furti, soprattutto in danno di ditte orafe o di famiglie orafe, ma d'altronde la situazione anche geografica della città di Arezzo consente, trovandosi sulla 1, di organizzare questi colpi naturalmente e di sparire. Occorrerebbero molte più telecamere con letture targhe, ma non voglio entrare nel dettaglio tecnico operativo, ma ci stiamo dando da fare anche per questo, vi assicuro. A chiudere le celebrazioni gli studenti delle scuole a retine che hanno preso parte ad un progetto con Sebastiano Vitale in arte Redman, il poliziotto re. Caso Legionella, un caso ancora non chiuso, quantomeno per il confronto tra il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e il direttore della ASL Toscana Sud-Est Antonio Durso, che doveva svolgersi oggi di fronte al prefetto di Arezzo, ma l'incontro è saltato. L'ultima ordinanza in tema di Legionella, firmata proprio dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, era di pochi giorni fa, quando il batterio era stato nuovamente riscontrato in una struttura sanitaria privata. L'incontro chiarificatore dunque tra il sindaco e il direttore generale per il momento è rimandato. Parliamo adesso invece in tema sempre sanitario del futuro dei consultori, se ne è parlato oggi in un incontro ospitato presso l'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo. È in corso in tutto il territorio toscano e arriva in queste ore anche nel territorio aretino il percorso di confronto da parte della regione toscana con tutti gli operatori del settore per la riforma dei consultori. I consultori in Toscana sono 152, l'ostetrica è la figura più diffusa seguita dal ginecologo, oltre a psicologi, assistenti sociali e altri professionisti. È con loro che la regione toscana ha avviato un percorso di confronto per potenziare questo servizio. Dobbiamo guardare al futuro e cercare di migliorare ulteriormente, di implementare, di analizzare punti di forza ma anche punti di debolezza, di mettere in relazione tutte le attività che sono connesse alla rete consultoriale, penso sicuramente alla tutela della salute sessuale, riproduttiva, penso al percorso nascita, penso al percorso legato all'interruzione volontaria di gravidanza, alla contraccezione, a tanti altri aspetti che possono anche incrociare le attività di prevenzione o la presa in carico delle situazioni di disagio, soprattutto per quanto si può fare riferimento al mondo giovanile. Per questi elementi, su questi elementi è in atto un confronto in tutte le aree vaste della Toscana, con i professionisti. La Giunta regionale ha presentato una bozza di proposta e ora ne parliamo con i professionisti, con gli attori che stanno sul campo per recepire eventuali anche suggerimenti che possono migliorare il testo in modo da avere da qui all'estate una delibera da portare all'approvazione della Giunta stessa. Tra le proposte c'è quella di garantire la presenza di personale non obiettore riguardo alle interruzioni di gravidanza volontarie, offrire mediazione per i migranti, potenziare la telemedicina e i teleconsulti e rivolgersi ai giovani con una specifica attività di prevenzione. L'intenzione della Giunta regionale è quella di dare un ulteriore impulso ed efficacia ai consultori diventati punto di riferimento del servizio sanitario, in particolare delle fasce cosiddette vulnerabili della popolazione. È necessario dopo molti anni ritornare sul tema, fare un aggiustamento del tiro e soprattutto interessarsi delle politiche giovanili di tanti giovani che si possono e si rivolgono già ma che potranno sempre di più rivolgersi ai consultori per avere un supporto dal punto di vista non solo psicologico ma anche sociale. Ecco questo è il messaggio forse appunto più importante e l'attualità ci consegna, le cronache ci consegnano storie dove comunque ricordare che le agende sanitarie ci sono, che la sanità pubblica funziona, forse fa sempre bene. Sì, i consultori sono una parte pubblica del sistema, una parte irrinunciabile del sistema. Io avevo lanciato qualche mese fa una richiesta agli amministratori comunali di costituire una sinergia nella gestione delle marginalità e delle situazioni ad elevato impatto sociale. Il tavolo di lavoro ancora non è partito, sarebbe auspicabile che su questo si facesse molta attenzione in territori difficili come per esempio quello della provincia di Arezzo. Si avvicinano in provincia di Arezzo le elezioni amministrative, andranno al voto i comuni di Capolona, Caprese e Michelangelo e Laterina, Pergine e Valdarno. Si iniziano già a fare i primi nomi dei candidati. A Capolona il sindaco uscente Mario Francesconi dovrebbe appunto ricandidarsi con il sostegno dei partiti di centro-destra e in particolar modo dovrebbe riproporre appunto il suo secondo mandato sostenuto con la lista futuro per Capolona. Il centro-sinistra invece, terzo polo compreso, si sta riunendo intorno alla figura di Sario Dini, già consigliere comunale di opposizione e presidente della Proloco di Capolona. A Caprese e Michelangelo potrebbe invece aprirsi lo scenario di una lista civica unica alle elezioni che rappresenti un progetto di comunità. Da capire ovviamente se questo accadrà e quale sarà poi la figura che appunto potrà riunire tutti, si fa il nome di Fabio Santioni. Infine a Laterina, Pergine e Valdarno la sindaca Simona Neri non sarà in corsa, salvo sorprese dell'ultima ora e allora PD e compagni pare abbiano puntato tutto sul nome di Michele Gragnoli, attuale assessore ai lavori pubblici, mentre il centro-destra potrebbe fare convergenza sul nome di Jacopo Tassini. Ovviamente sono tutti insomma nomi e candidature da confermare, da ufficializzare. Spostiamoci adesso invece a San Giovanni Valdarno, dove sono stati stanziati 35 milioni di euro per il piano triennale delle opere pubbliche. 35 milioni di euro per il piano triennale delle opere pubbliche a San Giovanni Valdarno, a cui si sommano poi 9 milioni e mezzo per i lavori già affidati. Il piano è stato adottato in giunte ed approvato nel corso del Consiglio Comunale dello scorso 16 marzo. 35 milioni di euro di investimenti rappresentano un obiettivo ambizioso, anche in considerazione di circa 10 milioni di euro di progetti che sono stralciati dal piano triennale delle opere pubbliche perché partiranno in questa annualità. Un lavoro reso possibile grazie a quanto fatto in questi anni in termini di progettazione e di ricerca di finanziamenti. Le ricordo brevemente, circa 15 milioni di euro di fondi PNRR che arriveranno sul nostro territorio, sono arrivate e arriveranno nel corso delle prossime annualità. 5 milioni di euro la convenzione Terretav, 6 milioni e mezzo dalla convenzione con autostrade. Tutti i finanziamenti che ci consentiranno di lavorare su quattro direttrici fondamentali che hanno da sempre caratterizzato l'azione amministrativa nell'ambito dei lavori pubblici. Scuole, mitigazione del rischio idrogeologico, infrastrutture ed edilizia sportiva. Questi hanno rappresentato da sempre i quattro cardini della nostra azione amministrativa affiancati a un'attenzione importante su quelle che sono le manutenzioni sia del patrimonio viario che degli edifici comunali. 500 mila euro di lavori sono già stati affidati e partiranno entro giugno. Abbiamo bandito le gare di tre importanti progetti PNRR a fine 2022, lo 06 della Rosai Caiani, l'asilo nido della Rodari e il progetto del Teatro Bucci. Questi tre progetti sono attualmente in fase conclusiva e verifiche per la giudicazione definitiva delle gare e partiranno quasi in contemporanea tra l'inizio di giugno e la fine di giugno. Domani ad Arezzo Consiglio Comunale convocato alle 14.30 in apertura di seduta la proroga della fideiussione comunale a garanzia del mutuo per il project financing dell'impianto sportivo polifunzionale alle pressi dello stadio. Poi però ci sarà l'argomento chiesto peraltro dalle minoranze, ovvero il disagio giovanile. Una richiesta, lo ricorderete, che era arrivata in seguito al confronto e al dibattito importante che c'era stato dopo il caso dell'aggressione della ragazzina di 11 anni nella zona della Cadorna. La giornata potrà essere seguita da tutti i cittadini che ovviamente non vorranno farlo in presenza in diretta collegandosi al canale YouTube dell'ente e cliccando sul link arezzo.videoassemblea.it Siamo alla cultura, un museo davvero alla portata dei bambini. A portare in giro i più piccoli al Gaio Cilnio Mecenate, al Museo Archeologico di Arezzo, è il gatto Gaio. Gaio come Gaio Cilnio Mecenate, il personaggio storico a cui è intitolato il museo, Gaio anche perché è allegro e quindi ha tutte le caratteristiche per essere una buona guida all'interno del museo. Nella grande sala del ceramico del museo c'è un vaso etorosco molto panciuto. Sulle sue pareti sono dipinte due figure di giovani nudi. Sono due atleti. È il gatto Gaio a guidare i più piccoli alla scoperta della storia, delle collezioni e delle curiosità del Museo Archeologico di Arezzo. Attraverso una mappa che viene distribuita gratuitamente all'ingresso in italiano e in inglese e consente di fare un percorso semplificato per bambini curiosi in nove tappe conoscendo i luoghi e i reperti più significativi e appunto curiosi delle nostre collezioni. Insomma un museo sempre più a misura di bambino. Sono il nostro futuro e il loro futuro è bene che si fondi anche su una conoscenza del passato, su ciò che li ha preceduti, su ciò che hanno prodotto le civiltà antiche e quindi credo che siano esperienze fondamentali per la loro formazione e per la loro crescita e per noi è una gioia vederli qui, appunto interessarsi a questi oggetti apparentemente così lontani in cui sanno trovare però sempre delle chiavi di lettura originali. Che cosa ci ha detto Gaio? Che cosa teneva in mano? Qualcosa. Ad accompagnare poi i grandi e piccini alla scoperta del Museo Archeologico e dell'Anfiteatro Romano anche la nuova app in realtà ha aumentata Archeo Arezzo. Consente di visitare l'area archeologica esterna e soprattutto di vedere la ricostruzione 3D dell'Anfiteatro e quindi l'area archeologica con i suoi resti tutto sommato scarsi si trasforma e appare ai nostri occhi l'Anfiteatro di Arrezio. Se ne comprendono le dimensioni, le altezze, la struttura, quindi è un effetto interessante. Il premio Nobel Giorgio Parisi al Teatro Petrarca il prossimo 27 maggio alle 21 per la prima rassegna scientifica retina promossa dalla Fondazione Guido d'Arezzo l'Associazione Culturale Lab con la collaborazione della libreria La Feltrinelli Point Arezzo Science Lab e dunque il Festival Scientifico di Spettacoli Teatrari come detto organizzato dall'Associazione Lab. Il professore Parisi porterà una lezione spettacolo che si muoverà dal testo Gradini che non finiscono mai vita quotidiana di un premio Nobel. La racchetta di Arezzo organizza un corso per conseguire la veditazione riconosciuta dalla regione toscana che consente di operare sugli incendi boschivi. Il corso, completamente gratuito, si svolgerà in due sabati, 15 e 22 aprile. Sarà aperto a tutti, maggiorenni, previa iscrizione proprio all'Associazione. Nelle due giornate di formazione verranno trattati temi importanti dall'uso dei dispositivi di sicurezza agli automezzi d'emergenza, le tecniche di spegnimento, l'utilizzo degli apparati radio per le comunicazioni e la distinzione dei vari incendi e il funzionamento della macchina regionale proprio dell'antincendi boschivi. Ed infine un dato che riguarda lo sport, ma in particolar modo in questo caso la possibile affluenza proprio degli aretini, dei tifosi per Arezzo Pianese. Sappiamo insomma che in palio c'è la Serie B, può essere davvero battuto il record di presenze allo stadio. Intanto sono già 1.400 i biglietti venduti. Come sappiamo, vincendo domenica prossima, gli Amaranto potrebbero essere matematicamente promossi in Serie C. È tutto per questa edizione della nostra cronaca aretina, grazie per l'ascolto e arrivederci.